Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Arai benvenuti in questo nuovo video si riparte alla grande lunedì con spacchettamento epico pacco enorme ragazzi lo posizioniamo qui sperando che non faccia crollare tutto quando lo aprirò perché è veramente enorme forse non ci sta nella postazione comunque andiamo a scoprire il contenuto e chiaramente troverete come sempre ragazzi tutto disponibile sul mio sito AraShop ricordatevi che da oggi mi trovate anche su Vinted che sta andando veramente alla grande trovate tutto sempre qui sotto in descrizione vediamo un po' cosa si nasconde all'interno del pacco eccoci qua parte più difficile aperta vediamo un po' oh allora vedo dei pacchi all'interno del pacco quindi doppio spacchettamento e cominciamo ragazzi cominciamo con questo vediamo un po' cosa si nasconde in questo pacchettino qui io non so cosa si vede adesso nell'inquadratura spero di riuscire a farvi vedere tutto perché sta diventando abbastanza impegnativo tutti questi pacchi a schermo allora ecco qua primo pacco nel pacco oh ecco qua qui abbiamo delle chicche delle chicche allora fatelo poggiare un attimo qua perché altrimenti non riesco assolutamente ed ecco qui ragazzi che torna disponibile Aragorn per la linea Diamond Select del Signore degli Anelli che con questa ristampa ho in programma di prendere tutta per la mia collezione anche ovviamente comunque ragazzi questo è un Aragorn veramente figo questo non l'ho mai avuto se non sbaglio tra le mani quindi finalmente posso vederlo un attimo posso recensirlo e farlo vedere anche a voi e posso tenerlo sul sito accompagnato anche dall'orco che non poteva mancare tra l'altro una bella figure di questo questo orco di Moria in particolare da non perdere assolutamente ben fatto con un sacco di accessori e quindi la prima coppia è questa ora altro pacco vediamo qui spacchettiamo prima i pacchi così vediamo un po' cosa si nasconde perché la curiosità è grande eccoci qua allora allora secondo pacco e qui vedo altre figure del Signore degli Anelli attenzione un grande unboxing io adoro come sapete il Signore degli Anelli vediamo un po' quali personaggi si nascondono qui oh e ragazzi abbiamo il ritorno anche di Gimli a proposito di collezionare la serie di nuovo che io non ho mai potuto avere per me queste figure perché quando arrivarono me le avete fatte sparire in tempo neanche un giorno quindi non le ho neanche viste un altro po' le ho guardate fuori dalla confezione e basta e con Gimli ovviamente arriva anche Legolas quindi ragazzi sono arrivati quattro personaggini molto interessanti per questa linea del Signore degli Anelli e usciranno anche gli altri ragazzi quindi per chi la vuole fare e non ha avuto la possibilità di farla a prezzi umani questo è il momento c'è disponibile anche credo ancora Gandalf sul sito se non mi sbaglio quindi insomma poi arriverà anche Frodo nelle prossime settimane sicuramente qui un pacchetto molto leggero cosa abbiamo vediamo non mi ricordo assolutamente ah e beh sì questo era da prendere assolutamente ogni tanto anche i Funko Pop questo è il Funko Pop del Batman di Keaton da The Flash dal film di The Flash questa è la prima figure ufficiale che arriva di quel film riguardante quel film ora vediamo un po' qui che abbiamo che abbiamo ah ragazzi qui sono arrivate le statue le statue di The Last of Us 2 con Abby eccole qua prodotte dalla Dark Horse e queste sono già prenotate purtroppo ragazzi e Joel eccolo qua ragazzi e scavando ancora qui nell'imballaggio c'è la chicca finale ragazzi la chicca finale sono riuscito ad avere questo e sul sito Asbro è esaurito ovunque in realtà una copia solamente il set di Carnage e Spider-Man col simbionte ragazzi questo l'abbiamo aperto in anteprima su Twitch però chiaramente lo vedremo anche su YouTube nel dettaglio chiaramente aprirò la mia copia perché ne terrò una copia per me e una copia solo una copia la metterò in vendita purtroppo non sono riuscito a recuperarne altre questo è l'unboxing di oggi ragazzi un bel po' di chicche interessanti tra cui la bombetta finale fatemi sapere se volete una recensione appunto di qualsiasi di queste figure credo che quelle signore degli amelli siano molto gradite anche perché non ho avuto la possibilità di recensirle come ho detto prima io vi ringrazio come sempre per la visione trovate tutto sul mio sito Arashop date un'occhiata anche a Vinted perché ci sono offerte e figure che non ci sono sul sito io vi ringrazio detto questo ciao Dare collezionate sempre grazie a tutti